No, 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 no. ah metto là scusate che cazzo? alzi! alzi! che ti ritieni dalla maglia? che ti ritieni dalla maglia? che cazzo? che cazzo? che cazzo? che cazzo? che cazzo? che cazzo? ma lo è fatica ma è il video sto fatica eh fatica anche ah ma che cazzo di finestre vabbè così dovrebbe si ma che c'è? le capocce no e non più una volta qua adesso non c'è stato necessario si però tu stai prendi i bambini gira lo sbattolo gira lo sbattolo ma sei sicura? ma sei sicura? ah ah proprio quello che la fonzi lo fanno si comunque così c'entra ok 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 ék Grazie a tutti.